Sindaco Fucci inaugurata oggi questa nuova piazza indipendenza, una piazza che è simbolo della continuità con il passato ma anche simbolo di un nuovo futuro. Sì, è vero, è un intervento che segue quello che abbiamo già realizzato ai Giardini Petrucci, di riqualificazione e sistemazione. Oggi abbiamo riaperto dopo i lavori dell'estate la piazza, sono stati riposizionati i lecci intorno alla fontana, realizzati degli interventi proprio nel basamento adiacente alla fontana e anche predisposto un sistema di ricircolo dell'acqua per la fontana storica che ovviamente originariamente non era stato previsto. Oltre a questo è stata rimossa la vecchia quercia storica soprannominata Pumona che era morta da diversi anni e stava diventando pericolosa a rischio crollo. È stata riposizionata una nuova giovane quercia nell'area verde qui al centro della piazza e questo simboleggia proprio un nuovo inizio e una nuova azione anche amministrativa che da due anni e mezzo a questa parte abbiamo iniziato e intrapreso in questa città. Protagonisti di oggi anche l'associazione Città Giardino e i ragazzi. Sì, l'associazione ha spinto molto fin dal nostro insediamento per realizzare questi interventi anche coinvolgendo quasi 400 concittadini che hanno voluto donare per terminare questa raccolta fondi che ci ha consentito di riposizionare i lecci. L'amministrazione comunale si è ovviamente fatta carico dei costi della realizzazione dei lavori, della posa degli alberi e anche della posa della quercia un pochino più grande che è stata posizionata nell'area verde al centro della piazza. Questo ci rende particolarmente orgogliosi perché simboleggia un nuovo modello di relazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni che vogliono sempre di più fare il loro per rendere Comezia una città più bella, più sicura e più vivibile. Fiorina Antonini, presidente dell'associazione Città Giardino, quest'oggi in Piazza Indipendenza, una nuova Piazza Indipendenza, grazie anche all'iniziativa promossa da voi Ricominciamo dai Lecci che ha contribuito al restyling della piazza centrale di Comezia. Sì, abbiamo chiamato questa iniziativa Ricominciamo dai Lecci perché per noi significa ricominciare da questi lecci che abbiamo acquistato con i soldi raccolti tra circa quasi 400 donatori, significa ricominciare da questi lecci a riprenderci cura con amore della nostra città, a ridare decoro e dignità a tutto ciò che abbiamo di bello come ad esempio questo centro storico razionalista. Significa anche ricominciamo tutti insieme, cioè i cittadini, le associazioni, i comitati e l'amministrazione comunale e per noi significa anche ricominciamo dalle piccole cose, cioè dalle tante piccole opere come questa che richiedono un intervento relativamente costoso e che davvero migliorano la qualità del vivere.